Allora partiamo da un presupposto importante, ovvero il presupposto che ero certo che stasera ci saremmo divertiti sicuramente meno di quello che ci divertiremo domani sera perché insomma due gare, una assolutamente più equilibrata è quella tra Chelsea e Borussia Dortmund che anche in vista del risultato dell'andata richiedeva obbligatoriamente una gara tirata una gara nella quale il Chelsea doveva rispondere presente perché un Chelsea al quale servivano due gol per passare il turno che non aveva mai vinto di due gol quest'anno dal 2023 dall'altra parte però, e partiamo da Lisbona, una partita proprio giocata, sapete che vuol dire all'insegna della tranquillità il Benfica aveva già ipotecato il passaggio del turno, l'avevo già detto, ho detto inutile che vedremo la gara di ritorno Benfica che aveva battuto il Bruges a domicilio 0-2 affrontava al ritorno i belga, non voglio dire tanto per ma più o meno il concetto è quello dai, sì, tanto per nel senso che secondo me il Benfica poteva tranquillamente gestire, il Benfica non ha gestito, il Benfica ha distrutto 5-1 il Bruges con un totale di 7-1 totale, scusate mi sono ripetuto totale, di 7-1, un risultato che è corretto per quanto visto in campo nei 180 minuti, Bruges che ha fatto anche di più di quello che gli si chiedeva, cioè era praticamente impensabile vedere il Bruges ai quarti di finale, qualcuno ci avrà anche pensato, come giusto che sia a mio avviso perché poi una volta che sei agli ottavi che tra l'altro becchi anche il Benfica che sulla carta è una squadra che si può fare, allora è giusto che ci speri poi però abbiamo visto insomma le qualità in campo, sono uscite fuori un po' le, come posso dire, il dislivello tra il Benfica e il Bruges quest'anno ragazzi il Benfica che si voglia dire perché sicuramente la Juventus fallisce a non passare il girone però il Benfica passa primo, mette dietro Paris Saint Germain e Juventus e di fatto la Juventus è andata a casa e ora giocherà dopo domani l'ottavo di finale di Europa League col Friburgo il Paris Saint Germain rischia di andare a casa contro il Bayern Monaco e di fatto il Benfica che si qualifica matematicamente ai quarti di finale rischia di essere l'unica di quel girone ai quarti di finale di Champions League beh chiaramente una delle tre andava a casa però comunque dovevi mandarla a casa tu quindi il Benfica forse noi in primis l'abbiamo un po' troppo sottovalutato posto poi che la squadra ce l'ha eh perché tra Rafa Silva, tra Gonzalo Ramos che comunque aveva già dimostrato tanto ai mondiali con il Portogallo mettiamoci perché va aggiunto anche calciatore come João Mario che sicuramente in Italia avrà fallito ma che quest'anno ha fatto 20 gol stagionali ragazzi siamo siamo a marzo siamo a inizio marzo questo ha fatto 20 gol stagionali ma noi ci stiamo rendendo conto ma noi ci stiamo rendendo conto di João Mario 20 gol stagionali cioè l'Inter rosica l'Inter in questo momento rosica poi qualcuno diceva basic l'Inter rosica se non rendeva non rendeva è vero però rivederlo a livelli così esagerati personalmente mi fa dubitare del fatto che forse nessuno ci aveva capito niente perché quando l'Inter è andato a prenderlo aveva pagato 40 milioni di euro sembrava una pippa ripeto sì sicuramente qualcuno di voi dirà eh vabbè però sì che è il Portogallo regà il Portogallo e prima è Bruno Fernandes però poi va lo United e continua a far bene e poi aggiungo pure che questo non fa bene solo col Portogallo perché oggi è la Champions League in Champions League il Benfica quest'anno ha già affrontato due volte la Juve e due volte il Paris Saint Germain quindi non sono le partite con il Maccabi e con il Bruges per quanto fa il Bruges sia riuscito a passare il turno a fare la differenza non sono quelle partite là detto questo bisognerà capire effettivamente poi questo Benfica dove può arrivare perché io vi dico Napoli, Inter, Milan qualora passassero il turno e Napoli è un po' come il Benfica di oggi l'ha praticamente passato ma in realtà il Francoforte rischia da andare a San Paolo al Maradona col pallottoliere quindi deve stare un po' attento il Napoli deve suicidarsi per non passare il turno regà parliamoci chiaro ecco questo Benfica rispetto alle altre è una squadra abbordabile chiaramente lo è perché comunque poi gli altri nomi magari è una tra PSG e Bayern è una tra la Madrid e il Liverpool e il Manchester City quindi tra queste ti prendi il Benfica da non sottovalutare però perché questo Benfica gioca bene e quindi forse per le italiane o conviene beccarsi tra di loro qualora passassero o conviene prendere le squadre che fanno fuori le italiane quindi nel caso il Porto eliminasse l'Inter forse conviene prendere il Porto per le due italiane qualora il Tottenham eliminasse il Milan forse conviene prendere il Tottenham oppure proprio la squadra che passava il turno tra Chelsea e Borussia ed è il Chelsea ed è il Chelsea perché i londinesi passano il turno ribaltando il risultato dell'andata vincendo una partita tosta una partita nella quale il Chelsea dimostra di essere tutto sommato una squadra scusate un po' de merda nel senso che comunque il Chelsea era chiaro come non poteva fare la prestazione della vita regà questa è una squadra che sta in crisi nera che non sa se esonerà Graham Potter tra prima della partita a fine primo tempo o a fine partita quindi insomma sapevamo benissimo che il Chelsea è quello che è è una squadra che oggi fa due gol e il secondo lo fa sul rigore io fanno batte 47 volte 1-0 Sterling, 2-0 Avers, rigore, palo, ribattuto, gol ma se noi chiedevano quel rigore, se noi chiedevano il rigore, il secondo gol non lo facevamo anche oggi quest'anno, quest'anno 2023 il Chelsea mai aveva segnato due gol in una partita cioè per farvi capire la situazione paradossalmente pessima del Chelsea io mi aspettavo passasse ve l'avevo detto già una settimana fa quindi insomma prima che cominciate a dire eh vabbè sì che è facile dirlo dopo io l'ho detto prima quindi poi ognuno la pensa come mi riferisce io l'ho detto prima che effettivamente accadesse però mi aspettavo chiaramente che il Chelsea passasse il turno perché il Dortmund ormai è una squadra un po' così sì, cioè è una squadra che sicuramente punta ad andare avanti punta a fare bene però o gli va bene che becca quelle squadre mezze e mezze qualche girone semplice oppure fa fatica il Dortmund l'abbiamo visto lo scorso anno senza senza Holland è una squadra normale ha provato a sostituirlo è stato anche sfortunato con Allaire e anche Allaire ovviamente è stato molto molto sfortunato ma pare adesso che il pericolo sia quasi superato e noi ovviamente ce lo auguriamo fortemente fatto sta che il Borussia vendi compra, vendi compra, compra, vendi vendi compra alla fine è normale che qualcosa può non andare è proprio il discorso ciclico del Borussia Dortmund in questo periodo storico 2020-2023 il Borussia è una squadra che si riqualifica in Champions puntualmente perché in Germania dopo Bayern Borussia e Lipsia qualche squadra fa un ex plua una volta l'Union Berlin una volta il Friburgo una volta il Leverkusen ma poi sono tutte lì quindi se becchi là cioè alla fine poi solitamente riesci a qualificarti per la Champions poi in Champions è un'altra storia hai beccato il Chelsea che comunque è peggio da te perché comunque oggi il Chelsea ragazzi è una squadra che inizia a perdere tempo dal cinquantesimo far 2-1 inizia a perdere tempo su ogni pallone se buttano per terra è normale che sia così è una squadra che non sta in piedi però va avanti ora io penso che andando a fare una disamina se dovesse andare bene quindi che passa il Milan l'Inter e il Napoli considerando anche credo il Manchester City credo vabbè ovviamente il Benfica credo il Bayern Monaco credo il Real Madrid me ne manca una ma non me la ricordo quindi 3 italiane Real Madrid Manchester City Bayern Monaco Benfica e Chelsea ok credo che le italiane ripeto o se prendono tra di loro qualora passassero tutte le italiane oppure Chelsea e Benfica sono le squadre un po' più abbordabili ma con questo Benfica ci devi andare a giocare ci devi andare a giocare e non è scontato che ti vada bene fatemi sapere la vostra con un commento qua sotto iscrivetevi al canale io vi ringrazio mi ti ha lasciato tantissimi mi piace e buon c'è l'alene come sempre ci vediamo al prossimo video